Lo sguardo d'intesa tra Lina Sastri e Maria Pia Calzone lascia trapelare la potenza emotiva del film La Casa di Ninetta, presentato e proiettato per la prima volta al B-Fest 2024. Si tratta del debutto alla regia e alla sceneggiatura per l'attrice Sastri, che sdrotola su pellicola la storia di sua madre, già raccontata da lei nel romanzo omonimo. Ieri sera l'abbiamo visto qua al teatro vicini e pare che è bello perché la gente applaudiva, la gente era commossa. Che cos'è? È una storia in cui la signora Maria Pia Calzone, che sta qua, che è un'attrice che tutti conoscono già, insomma voglio dire, non c'è bisogno di presentazione, è Ninetta nel film, è la Ninetta giovane perché il film è un flusso di memoria, quindi parla del presente, parla del passato. Nel presente c'è Ninetta vecchia, manata d'Alzheimer, che è Angela Pagano, e le tre badanti, che sono tre attrici straordinarie, che sono un po' l'isola comica del film. Nel passato, non vecchissimo, degli anni 60, così c'è una Ninetta con Alfonso, suo marito, amato e odiato, i figli piccoli, io e mio fratello piccoli. Il volto della madre di Lina Sastri riprende vita su quelli delle attrici Angela Pagano, interprete di Ninetta nell'ultima fase della sua esistenza, e di Maria Pia Calzone, che invece veste i panni della madre della regista da giovane. Com'è stato lavorare con Lina Sastri sul set? Che te lo dico a fare? Intanto è stata una lezione di recitazione a cielo aperto, perché Lina, pur non avendo mai fatto la regista, ha questa qualità incredibile di saper dire agli attori che cosa vuole, anzi di più, visto che le parole ci mette troppo tempo a dirle, lei ve la faccio, quindi quando voleva dire a un attore cosa voleva, glielo faceva, e quindi era un continuo a guardare lei che faceva tutti i ruoli, maschili, femminili, bambini, gli anziani, tutti, tutti. Il film è guidato dalla voce fuoricampo della figlia Lucia, impersonata dalla stessa Sastri, che mettendo sul grande schermo la sua storia di famiglia, regala al pubblico una riflessione sul presente, in grado di essere raccontato solo attraverso il passato, travalicando anche il dramma della perdita di ricordi.